il tuo sospetto potrebbe essere fondato my name is mio nome è sebastiano somma mi chiamo sebastiano somma nella serie tv un caso di coscienza sono l'avvocato rocco tasca sono un avvocato che combatte un po le ingiustizie sono un po atipico come avvocato perché è un avvocato che lavora per le fasce più deboli signor presidente qualcuno ha ideato questo complotto per ragioni economiche e di potere di fronte alle quali la vita di un contadino dei suoi figli e dello stesso comandante fiore evidentemente non contavano nulla che in qualche modo un programma che affonda delle contraddizioni del nostro paese racconta casi eclatanti casi molto forti casi difficili casi in cui la gente la povera gente viene perseguitata è un caso di coscienza parte proprio da un'avventura di coscienza mia personale che mi farà cambiare nel corso della serie da cinico avvocato molto agguerrito nella prima parte fino a diventare un avvocato che lavora prettamente appunto per le fasce più deboli per le persone che hanno bisogno di più di un assistenza legale con la storia di un avvocato che è un po un robin hood che è un po il nostro eri broncovici della situazione che è un po civil action io voglio solo giustizia per il mio bambino e voglio che tutti sappiano non possiamo accettare posso solo dirvi che c'è solo un modo perché voi abbiate piena giustizia e i responsabili vengano puniti dimostrare che la suncler era una copertura della multinazionale isidrom e che quando i rifiuti tossici vennero smaltiti e le falde acquifere inquinate i dirigenti dell'isidrom ne erano pienamente a conoscenza possiamo dimostrarlo sappiamo che questa è la verità ma non ne abbiamo le prove questa serie un po mi appartiene forse un pochino inside nel cuore in my heart perché mi piace un po rappresentare o comunque dare anche nella mia vita di tutti i giorni se è possibile un sostegno alle persone più deboli quindi questa cosa mi ha colpito molto di di questo personaggio quindi ho potuto lavorare in questa trasformazione dall'essere duro all'inizio di cominciare a lavorare invece con me stesso all'interno cercando nuove strade per migliorarmi il motivo per cui è nata è perché io essendo grande lettore dei libri di john gresham ero appassionato da quei libri e allora ho pensato se la grande forza del conflitto che nei libri di gresham veniva così bene descritta si poteva in qualche modo applicare a un format o una serie televisiva ovviamente è solo un'ispirazione perché poi con gli autori gli scrittori abbiamo cambiato e abbiamo inventato un nuovo format che prendeva spunto dai casi di cronaca veri successi in italia dove fasce deboli della popolazione combattevano i cosiddetti poteri forti la cosa che ha dato grande forza al un caso di coscienza è stato di essere partito in qualche modo raccontando inizialmente dei potenti dei potenti che si trovavano di cui il titolo un caso di coscienza dei potenti che si sono trovati in conflitto con la propria coscienza e che hanno deciso di fare una scelta estremamente avanzata per per un contatto con gli altri con la popolazione con i cittadini con la gente meno fortunata luigi perelli regista è stato scelto da me e dalla rai a fare questa serie perché corrispondeva al regista che aveva già fatto nelle sue esperienze precedenti serie televisive legate tipo la piovra e anche altre serie importanti ha fatto appunto queste esperienze di di sceneggiati chiamiamoli così sceneggiati televisivi legati all'azione quindi aveva tutte le caratteristiche produttive artistiche e di successo che facevano al caso nostro erano giuste per questa serie ed è stato sempre considerato un regista di successo anche legato alla rai lavorare con luigi è un'esperienza sta lì che mi guardano mi sente è un'esperienza fra di noi c'è un rapporto di gioco di scherzo anche di incazzature che poi è fatto solo per voler far bene questo lavoro e quindi c'è c'è una buona sinergia nostro avvocato rocco tasca interpretato da sebastiano somma è il nostro paladino il nostro diciamo eroe positivo che cerca di difendere tutti coloro che vanno da lui per per la loro causa tutti stai occupando del caso di un certo riccio no riccio quella donna sfigurata dal chirurgo o si poveraccia una gran brutta storia sono disposto a darti una mano e perché mai lo faresti per un caso di coscienza ho già parlato con riccio lui è d'accordo e che percentuale vorresti nessuna mi chiamo loredana cannata il mio personaggio è alice morandi e la collega e socia di di rocco tasca all'inizio il mio personaggio lavora per uno studio di avvocati molto ricco che difende i poteri forti e insieme a rocco tasca io tu e alice squadra imbattibile voi due alla prima puntata rocco tasca ha un suo caso di coscienza e cioè si rende conto che forse è meglio stare che è meglio stare dalla parte della giustizia e di chi ha subito un torto dalla prima serie c'è stato questo famoso cambiamento appunto dato da una crisi di coscienza molto forte che ha evoluto il personaggio sotto l'aspetto professionale umano e l'ha indebolito a volte su quelli che sono così le forzature a volte della del lavoro dell'avvocato cos'è una crisi passeggero devo considerarlo qualcosa di più grave vede avvocato il fatto è che io e la mia coscienza non condividiamo più le sue scelte professionali etiche e umane quello che succede a rocco tasca sconvolge ovviamente anche la coppia e quindi c'è un allontanamento anche da alice e rocco prende la sua strada quindi dolore dana è una lunga storia è una bellissima lunga storia d'amore di amicizia e forse ancora d'amore è un rapporto molto intenso molto forte parte dalla prima serie credi che puoi stravolgere la tua vita quella degli altri così come se niente fosse la tua vita la tua carriera guarda che per me la strada è sempre stata in salita sai è affaticato più di te per arrivare dove sono arrivata ma che cosa ne sai tu di quanto ho affaticato io allora devi scegliere Rocco Loredana Cannata nel ruolo di alice è stata scelta facendo diversi provini su quel ruolo e ci è sembrato una ragazza giusta e anche lei devo dire conoscendola abbastanza bene negli anni ha un po' il carattere di contestatrice nel senso di di persona di donna che combatte le ingiustizie nel mondo anche nella vita privata ha questo questa vocazione la cosa che che più mi piace di questa serie di questo personaggio e che mi ha portato a farlo e questa sete questo bisogno di giustizia io sono un po così io nella vita sono un attivista politica sociale e credo fermamente che la differenza la fa ognuno di noi ognuno di noi può portare un po' di giustizia in questo mondo e questo mi piaceva tanto e ha creato un tramite tra me e alice che mi ha permesso di interpretarla l'avrei interpretata comunque ma così più felicemente adesso c'è un rapporto di intesa professionale molto intenso molto forte di grande collaborazione ma diciamo nel futuro della serie può darsi che ci siano delle sorprese ancora le location di questa serie di questa nuova stagione il caso di coscienza sono sono molte sono state realizzate qui in questo teatro vedete poi andremo a girare in un tribunale qua sempre in italia vicino roma poi andremo a girare a trieste dove è ambientata la serie a trieste gireremo quasi tutti gli esterni il porto le strade le parti diciamo più fotografiche più di esterni cioè le parti che danno un po di respiro anche di divisione in questa serie in particolare giriamo in italia completamente la questa serie verrà completamente girata in italia diverso rispetto alle altre che ha avuto un'ambientazione a livello produttivo differente abbiamo sempre girato in bulgaria una parte che però serviva la nostra serie soltanto a livello produttivo e in italia a trieste che è una bellissima città del nord est dove l'ambientazione è quella naturale in questo caso nell'ultima che stiamo girando adesso che voi forse vedrete tra qualche anno e la serie è ambientata sempre a trieste ma è girata soprattutto nei teatri di posa qui di roma buongiorno signore io lavoro con l'avvocato faccio indagini per lui ex carabiniere anche lei sta facendo indagini no ma conosco il tipo stefan danielov nel ruolo di virgilio è un attore bulgaro aveva già lavorato con perelli nella piovra il suo ruolo è un molto simpatico è anche molto divertente fa da spalla l'avvocato rocco tasca fa la detection cioè compie delle azioni detection e di investigazione con rocco tasca ai limiti della della on the board al limite della giusto della legalità è questo e che ne sai il mio fiuto investigativo è perché sono bravo dai ce l'ho già venuto niente da fare è chiusa momento lo sai quello che stai facendo vero quasi sempre prima io sono laativa signora il film d'amore il film di scato e nella mia sulla storia la sua nuova nel film che ho realizzato in Bulgaria e Russia e ho in grado mio parla nel 1994 ho dovuto lavorare in seguito in diversi seriali. Il mio debut in italiana televisione era Oktopod 7, una ruola che si ricorda di Donno Tzumarciano. Stefan Danailov è meraviglioso. È una carica di energia e di grandissima professionalità. Ho avuto il piacere di conoscerlo in Bulgaria ed è stato anche molto divertente perché Stefan parla bulgaro, che è una lingua completamente diversa dalla nostra. Quindi noi ci confrontiamo in due lingue diverse, come spesso accade. E, magari, questa concentrazione, che è necessaria quando mi parla in bologna e voi parla in italiana, la attività del pensiero è molto più attivata. E questo sono sicuramente. Oltre che se parla in italiano, e in questo modo mi sembra, che questo mi aiuta. E, ovviamente, a me è anche molto divertente, ma sono più musicale, e posso aggiungere quando è il mio periodo. Ma, ma più piacere, mi piacere, ma più piacere, ma più piacere, ma più piacere, per i partiori italiani, per capire cosa voglio dire, ma anche i bolognese, ma anche i bolognese. Tengono i bolognese, ma anche i bolognese. Dainer è anche una spalla, tra virgolette, ed è il ruolo, lato un po' comico e anche un po' diciamo, meno drammatico tra i personaggi, per cercare di alleggerire il tono del racconto. Vergilio, per capire se, avrò circa 10 anni, quando abbiamo iniziato la realizzazione, in questo caso, io ho scendio l'escrizione. Il lavoro in polizia, il carabinieri, e si è conosciuto con Rocco Tasca, mentre lui è stato ancora un giurista, e l'escrizione di loro. E questa è la storia che ho scendio io. Non, non, non. Tu sei impazito. Ma che ti frega te? Ti pago una volta al mese, sì o no? Sì, svendendo la tua collezione. Ho saputo quanto valeva quella affare che è venuto per brancacio, branquezzi, brancusi, come accidenti si chiamala. Non ne posso più. Dora e poi difendiamo solo lì. Chi ha te be... ... 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 è il suo carattere, il suo carattere, per quello che si succede con il suo carattere. Il fatto che in un modo, si è iniziato a fare una carattere, si sono iniziati a cambiare, e si si sono iniziati e si sono iniziati a lavorare per il carattere. Poi, iniziati, è iniziato a lavorare. In questo senso, mi chiede, che il mio carattere è il risultato con le cose che si succedono con le personaggi che lavoriamo con Roco, Alice e Virgilio. che roco li da te. La scena è in una scena di tipo di serie, un'escritto, 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 e un'escritto sempre più grande, un'escritto, un'escritto, che si può dare un'escritto e un'escritto e un'escritto di quello che si succede in una scena. Il mio è molto interessante, in un'acquiettile, perché mi sono davanti a un'acquiettile, ma comunque iniziavole. Mi sono iniziato a fare molti dei miei e comediini, quindi per me non è un problema. Tuttavia mi è pianto da lavorare in questo formato, in questo formato, in questo caso. E a uscire che i colleghi sono spiegato una struttura di cui tu prendi per Virgilio o Stefano. E anche loro hanno amato molto che io lanciassi un saluto perché comunque, come dicevo prima, è un motivo di orgoglio sapere che delle serie televisive, la nostra, Montalbano, so che ci sono alcune serie che funzionano molto in America, è un motivo di orgoglio che è una produzione italiana, quindi in qualche modo mi faccio da tramite anche ai nostri dirigenti della RAI che avevano piacere di salutarvi e di ringraziarvi della vostra presenza qui. Mi fa sentire benissimo che gli americani amino un caso di coscienza. Io faccio l'attrice perché a sette anni trovai una piccola foto di Marilyn e non sapevo neanche che esistessero le attrici, il cinema, me ne innamorai. Poi avevo lo stesso Neo Supergirl di lei e quindi per me il sogno è sempre stato, Hollywood è sempre stato lì. Ci sono stata, ho amici, l'ho visitata, lavorarci ovviamente è un'altra cosa, però poterci arrivare col lavoro da qui è già qualcosa. Sono molto contento che le nostre storie piacciono anche negli Stati Uniti perché sono storie universali. Noi vogliamo raccontare la speranza soprattutto, vogliamo raccontare in questa serie i problemi del nostro paese perché le nostre storie si ispirano a fatti realmente accaduti. Quindi raccontiamo e denunciamo con questa serie i problemi del nostro paese, una parte, una piccola parte dei problemi del nostro paese. Quindi il mio avvocato è a servizio della serie. Serve a raccontare appunto un'Italia che a volte funziona, a volte no, ma che è disperatamente vogliosa di un happy hand. Io credo che noi possiamo contribuire in qualche modo, però è la coscienza del, è la politica, è la coscienza civile dei cittadini, sono l'impegno che possono aiutare. Noi possiamo stare dentro questo. Noi mi sono finito, mi sono andato a dormire, sono molto tardi, voglio dire ciao e grazie a tutti gli americani. Ciao e buona luce per la tua vita. Ciao. Grazie a tutti.